ciao a tutti come state? spero bene prima di dirvi cosa farò in questo video ovviamente esagerò una richiesta volevo chiedervi scusa da profondo del cuore per l'ultimo video che vi dàvi in quanto non non sono accorta che mi fa l'ultimo mi è scappato e avevo fatto problemi di audio e spero bene per l'ultimo video e quindi vabbè ne farò due tanti altri tappi questa sera questa sera farò due video con una richiesta di un semitebol è dura voglio un po' dare vista e volevo dire un'altra cosa il primo video sarà appunto video talk questo perché quando ho iniziato avevo caricato dei video donato canale sempre di esserne per esempio ma non mi sono piaciuti per niente e mi sono reso conto che non avevo fatto problemi di presentazione mia questo non era giusto nei vostri confronti quindi stasera vorremmo fare un video talk per farmi conoscere meglio spero che a un punto mi venga meglio della prima volta perchè ho anche tanto citata quindi tornare su uno stop box e poi poi farò questo video di questa richiesta io direi che potremmo mettere subito e farò questo video talk magari facendo per l'armi personale magari facendo questa scatolina di questo video di questo video di questo video quindi possiamo iniziare le domande sono le domande sono le domande sono le domande sono le domande così quindi penso come ripetutamente possiamo iniziare e spero che un po' di voi possiate prendere questo questo video desiderio insomma di farmi conoscere meglio soprattutto perchè come ho detto l'altro non mi piaceva e poi comunque era il primo video quindi subito in te anche mi sono troppo molto male allora la prima domanda che mi hai fatto nome Barbara soprannome Barbie che mi chiamava mia mamma che mi chiamava mia mamma numero di cantelline che mi spendo l'ultima volta 44 scusate ma ogni tanto di cantelline del tablet date gli spegni quelle cantelline 12 970 segni particolari ma ho una ciccatrice sulla parte dei strati del viso un segno particolare un luogo un luogo di nascita regoli di altezza ma direi un metro 63 più meno circa colore degli occhi castani colore dei capelli adesso insomma io ero nera di base adesso sono un po' vista dovrei farmi pianto quindi adesso sono un po' vesciata numero di scarpe 37 numero di scarpe pochi ali e li porto come giustamente ho detto in altri video li porto per leggere perchè sto sforzando molto le piste anche per il computer perchè lavoro anche con il computer prendendo che faccio due lavori uno di questi e lavorare proprio tutto il computer poi occhiali abbiamo detto si hai pirzi no non ho pirzi tatuaggi nemmeno li avrei voluti così da pensiero però personalmente mi da fastidio di avere una cosa che poi rimane per tutta la vita e non la puoi togliere quindi no animali domestici ne ho chiesto un po' felina quindi ho due gatti un maschio e una femmina che si chiamano Leo e Villa e hanno un anno e mezzo due anni e ti piace il tuo lavoro allora facendo tutti quei lavori come ho detto faccio l'infermiera e faccio da contabile presso il studio di mia mamma però quel lavoro lo faccio in casa e questo tendo a recitarlo perchè qualcuno mi ha chiesto che lavoro facessi per quanto riguarda per quanto riguarda mia mamma lavora con computer a casa e quindi mi piace mi piace più l'infermiera come tipo di lavoro e la contabilità la faccio perchè sono cresciuta con l'ufficio di mia mamma e mia mamma che aveva assunto altre persone non si trovava bene e io ci sono cresciuta quindi ti sei mai ubriacata? si ti sei mai ubriacata? non penso di essere stata rubrica infatti poi ti sei mai innamorata? certamente hai già amato qualcuno al punto di piangere? si hai mai avuto un incidente in macchina? purtroppo si e diciamo che è stato un incidente che mi ha praticamente cambiato tutto il mio stile di vita la mia vita stessa e non ho avuto quando avevo 33 anni circa ora 44 e poi hai mai avuto incidenti in macchina? non ho risposto hai mai avuto incidenti in moto? in moto in moto sono caduta dalla moto ma cose stupide sono bruciata la marmitta sono caduta così in poi niente di fortunatamente poi vino rosso vino bianco cinturino cinturino rosso dico così solo perché adesso insomma col vino sono a dieta per cui vabbè coca cola pezzi coca cola la pezzi troppo dolce lemon soda o orange soda tra le due forse forse orange soda ma comunque solo coca cola che non mi piace tanto niente lemon soda nell'orange soda caffè normale o macchiato normale caffè zuccherato amaro zuccherato coperto piumone piumone lasciare o essere lasciati non mi piace insomma delle due però se proprio dovrei scegliere tra le due preferirei essere lasciate migliacchiamente perché perché lasciare mi piace proprio poi colore dei calzini ma rosa neri bianchi numero numero favorito numero favorito film preferito film preferito film preferito trousse direi poi eccitazione 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 ma ci sono tante eccitazioni però beh come sapere potere computer playstation computer giorno della settimana giorno della settimana mi piace molto la domenica canzone preferita attuale canzone preferita attuale qui ascolto molto la musica italiana mi piace molto rilazzo zero quindi nei giardini che nessuno sa canzone preferita canzone preferita canzone preferita canzone preferita canzone preferita penso a sempre sempre di allenato zero ti lascio libero programma della televisiva scusate programma televisiva io vedo molto canale canale di chat e e e quindi ci sono tanti telefilm che che vedo ci sono un po' tutti 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 in base mi piace però un giorno un po' telefilm preferito telefilm film crassoni anatomi una cosa di questo genere il cartone preferito leghi oscar hai mai notato tanto si ho notato al mare ovviamente dietro gli scogli non c'era nessuno ero ben guardata non c'era nessuno però insomma non ero porno proprio io cotte preferite mhm cotte preferite mhm coca cola con Jack Daniels mhm mhm sogno o sondesto 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 sport predicati mhm mhm già da un po' che non faccio sport per te però mi piace molto il moto in quanto io piccolo mio padre faccio l'allenatore in atletica leggera e quindi ha fatto un'atletica leggera e poi mi piace un patinaggio artistico però adesso dovrei riprendere il moto magari l'obbissima settimana sport dovrei vedere tutto a vedere dal vivo mhm molto sincronizzato e patinaggio artistico e anche le gare le gare le amaturine di pallo pallo palli latino insomma poi pasto pizza mhm io adoro da notte la pasta mhm mhm come ti vedi da qui a dieci anni mhm 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 come mi vedo mhm è un bel pensiero spero di ritrovarmi fra dieci anni mhm più saggi diciamo sì e inistintiva parolaccia che dici più spesso ci sarebbe un petto da fare cazzo frase che dici più spesso ora che non sei con l'estate mhm cosa odi 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 l'ignoranza che non non è ignoranza proprio la cultura è l'ignoranza delle persone che che comunque non so come spiegare non sono comportamenti complicati comportamenti ignoranti no? ecco ecco chi non sopporti chi non sopporti chi non sopporti chi non sopporto non sopporto le le persone che non mi dicono le cose che non sopporti che non sopporti sono quelle che ti fanno la doppia roccia non mi piacciono sinceramente qual è la cosa più bella che esiste la cosa più bella è l'amore a che ora vai a dormire? e diciamo che non so faccio sempre le notti un po' perché sono porti insonnia un po' perché preferito studiare di sere e adesso anche per fare video vado a dormire proprio anche con me le cose mattina e infatti sono poi un po' stordita quindi direi che vado verso le due e mezzo le tre anche perché tanto soffrendo insonnia non comunque che sarà da prima lento risco da prima quindi è uguale distorsum allora distorsum mangina o mangina distorsum segno zodiacale sagittario punto debole e punto debole l'impazienza la rabbia perché sono una persona che quando si mette in testi fra qualcosa vorrebbe fare tutto subito quindi non ho pazienza perché sono anche soprattutto molto istintiva ricordo più brutto eh ricordi più brutti ricordo più brutto è stato un incidente ricordo più bello ho tantissimi ricordi belli soprattutto i figli della mia infanzia e effetti della mia infanzia la migliore qualità la sincerità sincerità a tutti i costi allora qualità che ti riconoscono che ti riconoscono che ti riconoscono di essere una persona sincera giornale giornale solare poi i difetti direi ti riconoscono a distartaggine sono molto molto distarta a volte a volte mi ritrovo in certezze condizioni di stress piccolosa ho paura ho paura ho paura della morte del set ma soprattutto riferite a persone che amo quindi mi aggiano il paranoio che ho visto tante volte quella non è una cosa buona l'obiettivo l'obiettivo è proprio raggiungere la serenità una cosa che proprio manca dalle mie persone ha anche un po' di equilibrio l'ultimo pensiero prima di andare a letto l'ultimo pensiero prima di andare a letto ma intanto l'ultimo pensiero potrebbe essere quello di chissà se stanno non riesco a dormire bene e per quanto appunto mi attacco l'essere e anche io e spero quello ma l'ultimo pensiero sia per i miei gatti e per i miei gatti che dobbiamo andare a dormire che dobbiamo andare a dormire e lei sale poi la prima cosa che guardi una persona del stesso posto allora la prima cosa beh la prima cosa ovviamente viene sempre da guardare il visual quindi di gli occhi ma in senso di sguardo eh non vuoi tagli di occhi così le qualità che c'è con una persona del stesso posto allora di rispetto la sincerità ovviamente e la cultura in senso di non accettare mai di di fermarsi di progredire ecco questo signore poi sai cantare? dunque cantare sì ho cantato al garocchio io potevo cantare unicamente davvero bravo quello sì perché ho una voce larga quindi sì credi in te stessa considerando che credevo più in me stessa tempo un tempo fa ci sono dei momenti diciamo ci sono dei momenti che credo in me stessa altri un po' di meno dipende un po' ci sono i periodi che insomma ne viene un po' così gente tutti poi pensi di essere attraente ah io pensavo di essere attraente perché ovviamente quando si va avanti con l'età che è un giudizio su me stessa poi si riflette molto sull'aspetto fisico quindi preferisco magari puntare tutto un po' su sul discorso testa fai da bordo con i tuoi genitori diciamo diciamo che largamente si però ho una mamma iperprotettiva quindi che tende a avere un po' dei dominio in forma di pulazione e con mio padre diciamo vado più d'accordo con mia madre che con mio padre sono un po' più chiusa suoni uno strumento non non suonavo quando ero più consumavo il mandolino anche dal primo agio giovanissima 15 anche dalla prima volta sempre 15 troppo presto nome preferito mi piaceva preferito mi piaceva molto il nome che mi dovevano dare cioè Ileana notte però ce ne sono tanti tanti altri nomi anche Giulio penso più Ileana che tentare ma poi pensi se non tentare è rimpianta se si meglio tentare i rimpianti non sono una cosa bella da perdersi dietro nome che odio nome che odio scusate nome che odio no, non odio non odio nessun nome ma si può impiegermi qualche nome insomma calogero non mi dico poi cretini intestino inizio a crede in Gesù credi in Dio ma io sono Agnostina è vero credo un'identità mettiamola così che grande sangue freddo caldo caldo inverno estate estate mi piace il perno solo per dormire perché fa fresco in estate quando si fa caldo sai chiedere scusa sì, certamente sei per una nozza sì, sono per una nozza cosa cambieresti di te quindi di me adesso capirei tante cose però penso che più che fisicamente capirei una parte del mio carattere vorrei essere forse più razionale più fretta sotto certi aspetti in certi ragionamenti invece di prendere sempre tutto il petto e fare cari mille carucci hai una rubata andero bambina cannulatine pacchetto di ciglia sei felice per certi per certi versi sì e per altri no voglio avere figli ma volevo volevo nel passato adesso 44 anni ritengo che non sia più una situazione giusta perché 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 con l'età anche le gravidanze non sono vagili e comunque più stiamo davanti nel tempo più le nostre cellule vengono quindi piuttosto che pensare che il tuo figlio potrebbe portare delle anomalie delle patologie no 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 diciamo non ci penso più te no poi sai stare sola? si sono stata sola sempre una vita andavo ballare da sola andavo prendermi una ferita da sola anche se adesso magari un po' di solitudine pesa no se dovessi stare un po' più sola matrimonio convivenza matrimonio si convivenza mi ha fatto che convivenza non ero sono state immobile essere o apparire essere sai passare la testa si per ogni cosa radica l'emozione che più ti tocca l'emozione che più le tocca l'abbandono l'abbandono l'essere abbandonata per pure di dover abbandonare no 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 è proprio l'abbandono si cosa non faresti mai? cosa non faresti mai? cosa non faresti mai? da so commetterti gli omicidi tre desideri all'ingegno della lampada allora da vedere una la salute la salute per me e la salute per i miei cari la felicità dei miei cari e e diciamo arrivare a un punto della mia vita di avere una vita normale come da tanto tempo che desidero l'ultima domanda ti serai tollevare a rispondere a queste domande? no ti sono divertita e spero che queste 100 domande possono avermi divertito o meglio rilassato avermi rilassato voi e l'ho stata anche contenta di farle perchè appunto non mostravo più quella cosa intera ma era tutto quello che sto vivendo con questa dieta e poi anche per i video che facevo quindi il video è terminato spero spero mi sia stato utile per farmi conoscere da voi come dicevo prima questo canale che è l'unico canale che può arrivare da me e se avete delle domande sulla mia persona anche su questo video tag vi prego come sempre di piacere commenti sotto come l'avete trovato se più annoiati se vi è piaciuto adesso vi devo salutare di chi devo fare il secondo video che mi ha chiesto che mi sono fatta e ci tengo aggiornati insieme proprio per recuperare il tempo perchè ecco come ho detto prima faccio due lavori che è l'infermiere raccontabile e nel primo lavoro quindi nel campo infermiero secondo adesso sto facendo dei corsi di aggiornamento così chiamati che sono veramente però sono rimasti indietro da un poco che conseguenza devo riprenderli e di gestire tante cose allora cerco te quando possiamo magari di fare il tuo video insieme o di non lasciare passare troppo tempo quindi adesso un altro video da fare e magari seguiti me anche in quello se vi date io intanto ringrazio tutti i miei scritti che sono mi lembro 89 e per me sono tantissimi veramente tanti e vi ringrazio tutti vi ringrazio per i commenti che continuate a lasciarmi e anche per il like quindi ci vediamo nei prossimi video un bacio a tutti ciao ciao Grazie a tutti.